Ritentiamo la fortuna con Mangood! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Sì, ritentiamo la fortuna ragazzi Oggi un nuovo giveaway sponsorizzato da Mangood Che ha messo a disposizione mia un budget per scegliere dei premi da porgere a voi E allora, mi sono divertita a scegliere tantissime cose da destinare alle vostre case Le ho suddivise in tre bei premi Di cui uno, non me ne volete, è divertente, spero lo prendiate bene Nel senso, mi sono accorta dopo che ho scelto una cosa che potrebbe risultare offensiva a qualcuno Ma no, no, assolutamente Io l'ho fatto semplicemente perché da piccola ero una grande collezionista di queste cose E avere quel set mi sarebbe piaciuto tantissimo e mi avrebbe divertito tantissimo Ma di che cosa sto parlando? Facilissimo scoprirlo Nel box informazione trovate dei link Troverete il link primo premio Troverete il link secondo premio e il link terzo premio Questi sono i premi destinati a voi Come ricevervi? Semplicissimo Basterà lasciare uno o più commenti qua sotto Magari ditemi qual è il premio che vi è piaciuto di più O ditemi quale premio preferireste ricevere o quale preferireste meno O lasciatemi detto quello che volete Se volete intanto andate a curiosare tra le cose che ho scelto per voi E fatemi sapere soprattutto se sono di vostro gradimento Così io che magari la prossima volta posso indirizzarmi più verso una cosa o un'altra Non fatevi sfuggire la fortuna Andate, cercate il premio che più vi piace Lasciatemi un commento E io in questa data estrarrò i fortunati vincitori Dopodiché troverete l'indomani da questa data iscritti i nomi dei vincitori qua sotto E poi successivamente pubblicherò il video con l'estrazione dei vincitori In modo che possiate vedere che tutto sia stato regolarissimo E allora in bocca al lupo ragazzi sono tanti premi per la creatività Tre premi, tre di voi saranno fortunatissimi Ho inserito in tutti e tre premi un complemento che vi ho fatto vedere Tra i materiali essenziali per le belle arti Ditemi voi qual è E noi ci rivediamo qui nel prossimo video Leggete il regolamento nel box informazioni Lasciatemi il commento E in bocca al lupo a tutti E grazie Banggood per questa opportunità In bocca al lupo, ciao!